Violente proteste hanno marchiato il secondo anniversario della rivolta nel Bahrein. Un sedicenne è morto colpito al petto da pallini di piombo durante gli scontri con la polizia nel villaggio sciita di Diyah. I disordini hanno avuto luogo malgrado l'avvio del dialogo domenica tra governo e opposizione per uscire da una crisi che ha fatto 80 morti ai diversi prigionieri politici di cui Amnesty International reclama la liberazione. Mi chiamo Meriam Abudib, sono figlia di un cittadino del Bahrein, presidente dell'Associazione Insegnanti. Mio padre è in prigione oramai da due anni, condannato a cinque per aver esercitato il suo diritto alla libertà di espressione. Sull'onda della primavera araba nel 2011 nel paese era esplosa la collera della maggioranza sciita, duramente repressa dalla dinastia sunnita con il sostegno militare dell'Arabia Saudita. Da allora le richieste sono sempre le stesse elezioni, monarchia costituzionale, fine delle discriminazioni religiose.